Benvenuti nel centro vitale di News Mix Up. Prima di svelarvi la notizia scottante, vi preghiamo di mettere un like a questo video e di iscrivervi al nostro canale. Questo semplice gesto è un grande supporto, permettendoci di fornirvi notizie aggiornate gratuitamente ogni giorno. Grazie di cuore. Dopo un'accurata valutazione medica, Giorgia Meloni aveva da poco ricevuto un verdetto incoraggiante sul suo stato di salute, dissipando le preoccupazioni iniziali e portando sollievo al settore sanitario. Tuttavia, in un repentino cambio di scenario, siamo ora testimoni di un improvvisa e preoccupante peggioramento delle sue condizioni di salute, mentre gli esperti continuano a sottolineare l'importanza della prudenza e della vigilanza. Meloni è stata consigliata a mantenere un profilo basso, specie nell'arena politica, e a seguire attentamente le indicazioni per il riposo e la distensione. L'obiettivo rimane quello di favorire un ritorno al pieno vigore, anche se il nuovo sviluppo aggiunge un'atmosfera di incertezza al suo percorso di guarigione. In questo delicato momento, il sostegno appassionato dei suoi seguaci continua a riverberarsi, con la speranza che la determinazione e la forza di Meloni possano superare anche questa sfida. Per rimanere aggiornati su ogni sviluppo e per ulteriori notizie sul mondo del gossip, iscriviti al nostro canale e resta con noi durante questo capitolo in evoluzione.